Sono stati riscontrati dei circoscritti casi quattro segnalazioni di alterazione della colorazione dell'acqua a Canicattì. Si è trattato di una esigua presenza di sabbia dovuta al ripristino dell'esercizio dell'acquedotto Fanaco. In sostanza, dopo i lavori di sistemazione della conduttura, si è accumulato del terriccio che si è mescolato con la fornitura idrica. La società che è in gestione il servizio idrico in provincia di Agrigento, cioè Girgenti Acque, ha sotto controllo la situazione e già predisposto ed eseguito i dovuti accertamenti finalizzati al monitoraggio della qualità dell'acqua del tutto garantita. Inoltre, le Girgenti Acque reso noto che nei comuni interessati dalla sospensione della fornitura idrica a causa del guasto riscontrato lungo l'acquedotto Fanaco è stata ripristinata la fornitura dopo l'intervento della società di sovrambito Sicilia Acque. Nel dettaglio, al comune di Casteltermine, la fornitura è tornata regolare. A Campobello di Licata è stato attivato il turno di erogazione nella zona Garibaldi Alta, per il comune di Ravanusa, la fornitura regolare, in erogazione i turni A2 e B3. Infine, a Canicattì, la fornitura è ridotta. Problemi di erogazione idrica anche a Licata, dove è stato riscontrato un guasto alla pompa di sollevamento idrico Cannavecchia, a servizio del serbatoio Cagliano. Pertanto, è stata momentaneamente sospesa la distribuzione idrica del serbatoio interessato per consentire i necessari interventi di riparazione. La regolare distribuzione, spiega Girgenti Acque, dal serbatoio Cagliano, sarà ripristinata non appena il guasto riscontrato verrà riparato, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Infine, mercoledì 26 settembre, dalle 9 alle 16.30, è stata programmata da Enel Distribuzione una interruzione della fornitura elettrica che riguarderà l'impianto di sollevamento ubicato in piazza Castello, nel comune di Bivona. Tutto ciò provocherà un minore arrivo all'impianto di potabilizzazione di Santo Stefano di Quisquina e, di conseguenza, si potrà verificare una riduzione di portata ai comuni serviti dall'acquedotto Voltano, e precisamente a Grigento, zona industriale San Michele e Fontanelle, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, area Voltano ed extraurbana, Favara e le utenze Voltano. L'indomani, il 27 settembre, dalle 9 alle 14, è prevista un'interruzione della fornitura elettrica che riguarderà gli impianti ubicati in contrada Contuberna, nel comune di Santo Stefano di Quisquina, con la conseguenza che si potrà verificare una riduzione di portata ai comuni serviti dall'acquedotto Voltano.